La Toscana torna in zona gialla a San Cirlo. Sono stati i dati riguardanti i ricoveri ospedalieri covid presso le strutture sanitarie dei territori, oltre alla crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. La zona gialla coincide innanzitutto con le nuove direttive riguardanti il Green Pass rafforzato, rilasciato cioè per vaccinazione o guarigione, che diventa obbligatorio per accedere ad alberghi, ristoranti e locali al chiuso anche per il consumo al banco o all'aperto, musei, mostre o altri luoghi della cultura, feste, cerimonie, mezzi di trasporto. Ci sono restrizioni anche per gli spostamenti da una zona gialla. Si può andare verso altre zone bianche o gialle senza dover giustificare il viaggio con l'autocertificazione. Non prevede per altro il coprifuoco. In zona gialla è previsto l'obbligo di indossare sempre la mascherina. Il decreto natale, peraltro, aveva esteso questa regola anche alle regioni bianche. Inoltre, dal 20 gennaio sarà richiesto il Green Pass base anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere, dall'estetista o in qualsiasi altro centro di servizi di cura alla persona. Dal 1 febbraio sarà richiesto ai cittadini il Green Pass base anche per accedere a tutti gli esercizi commerciali finora aperti. Infine, a partire dal prossimo 15 di febbraio, tutti i cittadini con più di 50 anni dovranno essere vaccinati. I controlli da oggi entrano in vigore anche i controlli per altri tipi di attività, quindi non soltanto quelle che venivano controllate finora. Ricordiamo che da oggi ci vuole il Green Pass rafforzato anche per bar, ristoranti e altre attività, altri esercizi. Le forze dell'ordine sono impegnate sul campo così come hanno fatto finora e i controlli saranno capillari e riguarderanno tutto il nostro territorio.